Martelli parteciperete ovviamente alla tornata elettorale di Pescara, alternativi ovviamente al centrodestra ma anche al centrosinistra? Sì certo, noi saremo una lista alternativa a tutto, al centrodestra, al centrosinistra, al Movimento 5 Stelle, quindi ci candideremo con le nostre idee, con i nostri programmi e con il nostro candidato sindaco. Quale sarà il candidato sindaco che è già deciso? Il candidato sindaco, questa è la domanda che fanno tutti, noi invece vogliamo invertire questo paradigma, vogliamo partire con la condivisione dei programmi, una volta fatti i programmi o durante i programmi sceglieremo la persona che potrà meglio rappresentarli, una persona sicuramente di valore. Io non credo che sia stato tutto sbagliato, credo che ci siano state delle cose giuste, poche purtroppo e credo soprattutto che gli ultimi anni questa legislatura abbia perso un po' lo smalto iniziale e abbia perso soprattutto secondo me l'identità di sinistra e di centrosinistra che si era dato all'inizio. In questo momento le città sono in grande trasformazione abbiamo deciso di noi cittadini, perché non ho mai fatto parte della politica, di riprendere un invito, un fatto da Ivano Martelli e partecipare a un progetto davvero che parta dal basso, partecipato, per andare a trovare le vere soluzioni che devono essere attuate oggi nella città. Pertanto noi abbiamo lanciato un appello, un appello che porterà successivamente a dei tavoli dove andremo a costruire la nostra città su dei punti programmati ben precisi. Il primo è l'ambiente, ovviamente quello che ci sta più a cuore e dobbiamo far sì che questa città diventi moderna, perché oggi Pescara probabilmente è una città nuova, ancora nuova e deve diventare moderna tramite una grande trasformazione, una trasformazione urbana di cui noi vogliamo partecipare partendo soprattutto dalle periferie. Grazie.